Ciao a tutti e bentornati a questa puntata speciale da casa di Bontavostre. In questo momento di estrema difficoltà, ecco una buona notizia che può donare un pizzico di positività. I giovani imprenditori di Confindustria Centro Adriatico si sono uniti in una raccolta fondi per aiutare gli ospedali delle province di Ascoli e di Fermo. Con la somma raccolta sono stati già acquistati dai macchinari per l'ospedale Murri di Fermo. Inoltre questi soldi stanno permettendo il finanziamento dei trasporti della Croce Rossa italiana per i malati oncologici che sono stati deviati dall'ospedale di San Benedetto a quello di Ascoli. Il prossimo acquisto molto probabilmente riguarderà l'attrezzatura necessaria per medici e infermieri. Per promuovere questa iniziativa i giovani imprenditori di Confindustria Centro Adriatico hanno realizzato dei video. Guardiamo insieme quello di Mariana Venenosi. Buonasera a tutti, vi ruberò solo qualche secondo del vostro tempo ma per una buona causa. Come ben saprete le strutture sanitarie italiane vivono un momento di forti difficoltà per l'emergenza coronavirus ed è per questo motivo che noi giovani imprenditori del Centro Adriatico abbiamo avviato una raccolta fondi per gli ospedali di Fermo e di Ascoli Piceno, le nostre due province. Questi fondi saranno utilizzati per l'acquisto di macchinari e di materiale necessario per i medici e gli infermieri. Abbiamo già fatto tanto ma vogliamo fare ancora di più perché sappiamo che possiamo fare di più quindi vi prego di donare anche una piccola somma per aiutarci a raggiungere questo obiettivo perché insieme ce la faremo. Se anche tu vuoi dare il tuo contributo facendo una donazione puoi farlo attraverso il link che troverai all'interno dell'articolo. Come sempre per diffondere le buone notizie insieme a noi contatta la nostra redazione. Aspettiamo il tuo video agli indirizzi info-riveraoggi.it o info-picianoggi.it. Ciao da Annalisa.